bianco reggio calabria precedentemente all'era taranto precedentemente all'era lì infatti confusamente era in una masseria che si chiamava santa teresa le ancora da svea adesso andò a calè perché gli ero di stacano fuori e poi dopo le stai manda bianco in provincia di reggio calabria due le ciappai la malaria aveva mandato lo spedale militare al caso maggiore oltre sopra e l'arriva c'è dunque allora andassi assi lì la correa va su non so se alle 9 come calè e tornava andare era mesbicchia l'aveva da fare passare col tempo ecco tra quattro chilometri o tre o quattro chilometri e l'arriva da fare passare la mia a d'oggi modo ed disse che all'era lì n'era la piazza dice che all'usinasse un un... ed disse che all'eserano il giornale si è assi davisino a casa e andò c'è lì che era un ufficiale e cosa dice che cercavo gente per dare un comando a questi partigiani questi pochi, erano un camminare di neve, erano costituiti da pochissimi, ma erano per la principalmente ex soldati, ero un po' giù, cercavo da neve se chiede da cosa con Nicola Crosa, però non lo giuro. Ma all'epoca lì in valle chi è che comandava? C'era questo Nicola Crosa. Ma c'era un'autorità, c'era già i repubblichini? Gioia, senti, era passato pochi giorni e era ancora niente. Quindi c'era l'anarchia, non si sapeva. Non si sapeva. Se la guerra era finita oppure se invece continuava, arrivavano i tedeschi. Mi ricordo che ieri arrivava quando che non ti dasse a parlare perché ha detto boh, questo è fascista. Ecco, questo per quanto mi ricordo perché... I fascisti erano spariti dopo, diciamo dopo l'8 settembre non ce n'erano più. No. erano tutti scomparsi. Certo. E poi è stata un pochettino ancora qua e poi è tornato a casa ci ha pensato un pochino. Ecco, e poi si rinformasse o quasi più... Quello non è la dita, ma si rinformasse poco come. Ad ogni modo, ha l'enveccio, perché erano forno e poi si sale sul Montesoglio e c'è una frazione che si chiama i Milani perché sono tutti in Milano i cognomi e loro facciamo una frazione Milani. Quando è tornato aveva la divisa, le armi o era? No. No. Mio papà dice, io vado... Tua madre cosa ha pensato? Cosa ha detto? Guardami, aveva un desame. Però era la più grande. Era la più grande, aveva un desame. Andrina, aveva 10, Giacomino 9 e l'altra piccetta 6. Quindi, sai, tante particolari non le posso neanche sapere. Però pensandoci dopo, era una scelta abbastanza difficile. Lui mi ricordo di questo che... Cos'è che ha detto? Che non perdo niente della mia carriera. Non perdo niente della mia carriera. Cioè era una prosecuzione. Ecco, però era di quell'idea lì, non di idee contrarie. Ecco. doveva continuare. Ecco. E per l'unico che mi ricordo di me, per l'unico che mi ricordo di me, una volta che ero lì, al massimo ero niente. Ecco. Come spavente. E non per altri anni. Un giorno è tornato. E' tornato e andai su, la cammina. E sai che mia mamma la mandano fuori, a giugno, a giugno. Sì, sì, sì. La mandano giù, a giugno, la corte. E lui diceva, ma che fa? Ma mia mamma e mio papà che sono tornati fuori. Mi sono andato a capire. E lui parlai. E lui parlai. E noi da sotto. Ma non aveva mai nascosto la cosa? Ma sì che ancora era una cosa proprio in cura. Forse è capita a fondo, mi penso. Forse lo sapeva. No, no, forse non... L'era un po' di fermata. L'era un po' di fermata. L'era un po' di questo, molto viale. E sai che mio papà le aveva detto, aspetta, perché lei non è al momento. Lei non è al momento. È in cura, adesso oramai è morto. Io non ho leggi o come siungo o come che sia. Hai fatto qualche azione, qualche cosa? Andai a far studi in qualche modo? Non lo so. Hai fatto delle cose? Non, no, proprio come ha fatto io dopo, quando andassi a rubassi ed assi e dal lato. Assolutamente no. Penso che all'inizio andai su tutte le case. Le vedo, le vedo qualcosa, penso, ne? ecco e perché stai qui di cutelli marietti eccetera parai ora che la levano del cesto e adesso parai a dissi un più ora a dissi che l'hanno fai la spia lanciare i tedeschi ecco ma che lanciare i tedeschi ero siti industriali si 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 tutti industriali e non lo so e portavano via le galline no no non so no so solo che erano casi usi le nonche ti las dime che quando ti senti carasmati che ti ricordi quella cosa la che chi la io me la perdonco ancora adesso eh è stato il primo grande rastrellamento anche in Val di Lanzo ma io so che mio papà l'ha detto ha detto che organizzavano e dividavano in tre la montagna e le palline adesso uno ha cercato di andare da lì gli altri vanno da lì e vanno da lì e cercano di salvare la pelle non avevano armi oltretutto solo armi leggeri, pistole qualche roba da niente perché come si dice che mio papà l'aveva giusto nella storia Scacciacani c'è nello svolgutino tutti tedeschi tedeschi e sono andati su eccetera allora sono dividi entratre allora quel che li andai da sì sono salvasse quel che sono andati da sì sono salvasse me e mio cugino Francesco che sarebbe il figlio della sorella di mia mamma l'unico figlio della sorella di mia mamma che era sotto ufficiale di leva e lì giunti e scantinati che non si panno perché allora non te ruggai e poi io sarei due ruggati allora io sarei due ruggati se erano i capi se erano cose per fare e questi sempre i tedeschi o anche i tedeschi tedeschi sono tedeschi per lo che mi sei messi e se sarai l'interprete mi lo sai comunque voi niente sai che lì mi è nata per bene e tu l'unico è capitato e poi niente poi al domenico più o meno ah d'un baracca no d'un baracca e l'aspettava lì fuori da qua e l'ha detto tutto lì da dire una cosa e l'ha detto che l'unico è capitato e allora mi ricordo che si era tornato su mi era andata a Torinaton e tornato su e mi ricordo come accadessi e mi era accaduto la porta che era a due a scuola e difatti il 15 di dicembre del 43 mi sono entrato a collegi e Giacomo e Giacomo e poi andata a Sassi e la Sassi ma mi smia dopo in Italia mi smia dopo non subito qui di lì perché se ne sarai l'intermesa di Genè o cosa la mamma non ha avuto problemi già hai da rire niente quindi